Versione beta, news idee, personaggi del web 2.0 tutte le notti alle 2.30 su Radio 2 e il sabato grande festa con le migliori band indie italiane dalle 22.30 a mezzanotte e ricordate che ci potete seguire anche sul web via podcast dove si scarica il podcast ma è facile su www.versionebeta.it e inoltre potete anche iscrivervi e il podcast ve lo mandiamo direttamente ogni giorno sul vostro pc Versione beta, 6 giorni su 7, 6 notti su 7 su internet e in radio con Andrea Materia e Mario Bellina